buongiorno a tutti ragazzi benvenuti al vostro oracolo angelico giornaliero andiamo anche per oggi a vedere l'energia del giorno e anche oggi vi ricordo che siamo in promozione e che vi consiglio di non farvela scappare perché questa è veramente una promozione di quelle più uniche che rare nel senso che prendete un corso e ve ne regalo un altro quindi tutti quelli che avevano in testa di prendere il secondo livello senza passare dal primo ragazzi ve lo sto regalando il primo livello cioè vedete non è perché voglio per forza vendervi il primo livello oltre al secondo io lo capisco che voi volete il secondo perché ha qualcosa di parte di molto particolare io lo capisco che voi volete il secondo perché già siete bravi e volete volete cogliere i segreti esoterici legati al mondo della tarologia ma non potete fare il secondo livello senza il primo o perlomeno non potete farlo bene e allora vi sto regalando il primo quindi andate a pensateci adesso e a inoltre ecco se volete ovviamente saperne di più sulla promozione guardate il video che metterò alla fine di questo perché metterò il link sul quale potete cliccare alla fine di questo video per guardare il video di presentazione della promozione quindi iniziamo subito prendiamo perché non scappano le carte oggi perché non scappano le carte mi servono ok prendiamo questa e me ne servono ok questa è la seconda e me ne serve eccola qui ok 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 1 2 e 3 bene 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 abbiamo un 3 di bastoni un 8 di coppe e un 6 di spade rovesciato rovesciato cioè andiamo ma non andiamo com'è questa storia andiamo ma non andiamo non andiamo da nessuna parte però andiamo cioè ieri avevamo il carro bloccato poi decidiamo di andare però non andiamo c'è qualcosa che non va no c'è qualcosa che non va dobbiamo andare se non andiamo dove andiamo e se non andiamo perché andiamo che senso ha andare se non andiamo ditemelo voi com'è questa storia iniziamo dall'inizio all'inizio c'è uno che non va cominciamo dal 3 di bastoni che non va non va da nessuna parte perché 3 di bastoni è uno che dice io ho già camminato io sono andato io sono andato dove dovevo andare io ho fatto tutto il percorso mi sono ammazzato la vita mi sono stancato ho fatto le salite ho fatto le discese sono arrivato in cima sono arrivato in cima e adesso io dall'alto con i miei tre bastoni guardo il mare l'orizzonte e aspetto di vedere che cosa arriva aspetto la nave perché senza la nave non ho dove andare e quindi non vado però però la seconda carta è un otto di coppe che invece va perché l'otto di coppe va è uno che l'otto di coppe è uno che va via da quello che non funziona l'otto di coppe è uno che si è rotto le scatole che si è stufato e che dice allora io non ci sto più io non voglio star male non voglio soffrire io mi merito io mi merito qualcosa di meglio e quindi vado verso questo qualcosa di meglio tra l'altro ragazzi se davvero andate verso qualcosa di meglio è una favola perché dopo l'otto di coppe c'è il nove di coppe che è una carta meravigliosa che proprio rappresenta il benessere psicofisico il top per tutti gli operatori olistici il nove di coppe è il top e poi abbiamo il sei di padre rovesciato che invece dice no non vado quindi si vado ma non vado perché perché questa roba cioè ci siamo convinti ad andare ma poi non andiamo perché adesso vi racconto la storia di oggi o dei giorni attorno ad oggi la storia di oggi è questa stiamo qui ad aspettare qualcosa ma questo qualcosa non arriva allora decidiamo di togliere le tende decidiamo di andar via perché non possiamo star tutta la vita lì ad aspettare solo che poi dopo aver fatto i primi passi ce ne pentiamo e ci blocchiamo di nuovo ma vi sembra normale cioè lo dico anche a me stessa perché questo è anche oracolo anche mio e per tutti quindi ma vi dico ma ci sembra normale stiamo stiamo sbagliando qualcosa non va bene non va bene dobbiamo andare se una volta che decidiamo di andare dobbiamo andare però è anche vera una cosa e qui devo dire che sì è anche vera una cosa che l'otto di coppe è uno che decide di allontanarsi dalle cose che non vanno bene che non funzionano ma soprattutto che fanno male emotivamente alle emozioni e che non soddisfano per andare verso qualcosa che soddisfa di più però il sei di spade nel sei di spade è come se noi ci accorgessimo che sì stiamo andando però ci siamo dimenticati di ci siamo dimenticati di lasciare qualcosa ci siamo dimenticati di lasciarci alle spalle qualcosa e se noi andiamo avanti portandoci dietro questo qualcosa in realtà sì andiamo avanti però però continueremo nel nostro nuovo luogo nella nostra nuova sede continueremo a sentirci come ci sentiamo adesso quindi non ha veramente senso andare così è meglio invece andare quando riusciamo a lasciarci alle spalle quello che dobbiamo lasciare ora spiego meglio spiego meglio soprattutto per i miei studenti e per quelli che stanno per diventarlo perché lo so che lo so che volete diventare studenti perché questo è il momento migliore per farlo quindi ragazzi fatelo adesso fatelo adesso un consiglio spassionato e il sei di spade questo l'ho già spiegato in un'altra in un altro video è qualcuno che si va avanti però vedete si porta dietro le sei spade se le porta dietro il che vuol dire che questi sono pensieri preoccupazioni che non vengono lasciati nel luogo di origine ma vengono trasportati tramite questa barchetta nel posto nuovo quindi è come dire io lascio il mio ex però continuo a pensare a lui e allora che cosa succede che siccome so che tanto continuerò a pensare a lui mi blocco mi giro la carta non vado da nessuna parte e gli do un'altra possibilità e ora ovviamente ho semplificato molto però è un po questo è un rendersi conto che c'è ancora qualcosa di incompiuto e quindi non riusciamo ad andare avanti senza prima risolvere queste sei spade è inutile andare avanti portandocele dietro dobbiamo dobbiamo prima lasciare andare le spade e adesso vediamo un po quale consiglio angelico per canalizzare questa energia eccola qui una carta abbiamo il re di terra ok abbiamo il re di terra ma il re di terra è una carta a parte che corrisponde al re di denari perché i denari si associano all'elemento terra ma il re di terra è una carta che comunque parla di successi cioè ci porta con i piedi per terra appunto e ci fa notare che siamo siamo comunque delle persone molto responsabili siamo delle persone che non prendono le cose alla leggera perlomeno non in questa giornata e non con questa energia non riusciamo a prendere le cose molto alla leggera ma stiamo osservando le cose per bene soppesando bene ogni scelta soppesando ogni decisione ogni passo per non fare stupidaggini e siamo delle persone comunque anche abbastanza sicure di noi stessi perlomeno perlomeno nel nostro modo di agire nel nostro modo di comportarci nella nostra etica nel nostro essere corretti con gli altri siamo delle persone che conoscono la propria il proprio valore e dobbiamo semplicemente stare attenti alle opportunità che ci vengono offerte in questi giorni perché questo potrebbe essere un periodo o comunque questi giorni attorno ad oggi possono essere dei giorni nei quali potremmo davvero avere dei grandi successi e possiamo davvero trasformare in oro tutto quello che tocchiamo oro metaforicamente parlando quindi in benessere se se accettiamo le opportunità che ci vengono offerte e lo facciamo con una certa saggezza con una certa sicurezza quindi il consiglio è proprio questo di sentirci più sicuri di noi meno indecisi su dove andare infatti queste carte comunque potrebbero benissimo parlare non tanto di relazioni di lasciare o non lasciare qualcuno ma potrebbero proprio parlare di andare verso un progetto o non andare verso un progetto iniziare un qualcosa di nuovo o non iniziare un qualcosa di nuovo lasciare un lavoro per andare verso qualcosa di meglio o rimanere dove siamo cioè possiamo appunto vedere questa energia come un qualcosa di molto generale che si riferisce anche ad altri aspetti oltre a quello emotivo quindi mi fa anche appunto pensare a qualcuno che vuole iniziare qualcosa ma non si sente sicuro e allora fino a quando non si toglie questi pensieri non inizia ad ogni modo ragazzi io innanzitutto vi invito a guardare il video che trovate adesso sul quale potete cliccare sopra per vedere nei dettagli la promozione di che si tratta poi vi invito a mandare un'email e poi vi invito a diventare studenti e di farlo adesso perché molte persone nell'ultimo periodo come vi dicevo vogliono prendere il secondo livello senza avere preso il primo non ve lo consiglio e non solo non ve lo consiglio ma ve lo regalo quindi fatelo adesso vi mando un abbraccio e ci vediamo a domani a domani